Siamo esattamente alla quarta PS della prova speciale qui in Urbania, esattamente la seconda tappa del circuito Enduro Marches Ires. Siamo all'ingresso del sentiero Brutali che poi si andrà a coniugare con il sentiero Banana e questo lo vediamo come sempre dopo la sigla. E molla, e molla. Siamo partiti per là, Brutali. Questa ragazzi è proprio Brutali. Allora, qui già il terreno è molto più asciutto rispetto alle altre perché o è l'esposizione del sentiero o perché è aperto ma ha un ottimo grip rispetto all'altro. Qui abbiamo già la prima, il primo muro. Wow! Oh! Oh! Ah, qui! Oh! Cazzo! Scivolissima! Wow! E' meglio ma non peggio. Oh no! Cazzarola! Non me la ricordavo, no! Qui muro la, qui muro la! Ah! Aspettiamo i compagni. Ci sono i compagni, i compagni ci sono! Ah! E qui c'è il passaggio della strada e poi ci si mette, più di sotto, muretto. Qui è molto più bagnato rispetto al primo pezzo. Poi è da capire se si passa qui o se si passa nell'altro pezzo nuovo che dovrebbe venire giù forse di qua. Ma questo lo vedremo domenica, quando sarà tutto bello fettucciato. Ah, e qui già siamo. Uno pezzo del brutale e andiamo sul banana. Ora siamo sul pezzo del banana. Poco tracciato, poco segnato. Come mai? Non si sa. Oh, scivola! Eccolo! Mamma mia! Oh, scivola! Mi è partita lì, l'ho tirata su, ma non è stato sufficiente. Ah! Ma porca puttanazza! Andare giù sempre con il jolly pronto da giocare. Inizio a sentirla tutta, tutta questa discesa, l'inizio a sentire. L'inizio a sentire. Poi qui c'è la parte, la parte più bastarda che è le whoops. Eccola, eccola. Occhio, qui occhio ragazzi, qui occhio. Occhio, occhio, occhio. Occhio! Ah, la spalla! La spalla! La spalla! La spalla ragazzi! Botta grande alla spalla! Ragazzi, sto pezzo è pericoloso! Wow! Finisco qui il video, ma voglio dire... Eccolo! No! 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 Grazie a tutti.